2-0, 2-0 il Catanzaro vince anche contro il Bari, vittoria fondamentale per il terzo posto, grande, grandissimo Catanzaro, 3 punti veramente fondamentali che valgono 6 nello scontrietto contro il Bari per il terzo posto, veramente vittoria fondamentale. Adesso voglio sentire quelli che vogliono isolare Calabro visto che c'erano quelli che appena si perde una partita su 10 Calabro fuori, Calabro out, adesso state zitti e muti salite sul carro anche voi, bimbini, ma fanculo va, sempre sempre sul carro di Calabro, sempre sul carro di Calabro anche se si perde, non che si va appena si perde una partita o due di fila subito a insultare tipo a Pagani, si è perso una partita poi si è vinta la dopo e si stavano tutti zitti, fanculo va. 2-0 fondamentale, gol di Di Massimo ed evacuo nel finale per il 2-0, vittoria, ripeto, veramente di un'importanza incalcolabile, Catanzaro che sale al terzo posto in classifica, non è vero, sto scherzando, quarto posto ancora comunque per il Catanzaro ma potenzialmente in caso di vittoria a Cava, partita difficilissima comunque mercoledì o giovedì, mercoledì mi sembra, mercoledì alle 2, a Cava, partita difficilissima perché comunque la Cavese è una situazione di classifica difficilissima perché la Cavese ha 16 punti, ha diverse partite da recuperare e quindi vorrà fare di tutto per salvarsi ovviamente, quindi giocherà con il coltello tra i denti, una partita probabilmente simile a quella di Pagani dove abbiamo perso e Catanzaro deve continuare a fare così, non deve mollare proprio adesso, non deve mollare proprio adesso, a questo punto ripeto perché con questa vittoria il Catanzaro sarà 51, a meno 2 dal Bari, tra l'altro ha perso anche l'Avellino che è a 60, quindi attenzione perché dovessimo vincere anche a Cava, andiamo a 54, andiamo a meno 6 dal secondo posto, quindi vittoria veramente fondamentale quella di oggi, grandissimo Catanzaro, grandissimo Catanzaro, ovviamente l'obiettivo rimane sempre con le derivate delle prime 4, questa vittoria di oggi è sicuramente fondamentale per questo, anche se ovviamente mancano ancora diverse partite, se non mi sbaglio 6, mi sembra di partite ne mancano, o 7, 6, ne mancano 6 perché sono 18 squadre, sì 19 squadre quindi dovrebbero mancarne 6, e il fatto sta che ripeto comunque vittoria fondamentale, fondamentale veramente 3 punti d'oro, e niente adesso il Catanzaro ripeto deve giocare su tutto per tutto per arrivare a questo terzo posto, o al massimo ripeto il quarto comunque, non è brutto io continuo a dire, ribadisco da inizio anno, l'obiettivo sono i primi 4, poi vediamo un po' quello che succede, il playoff, mentre poi dobbiamo affrontarli al massimo, vediamo un po' cosa accadrà, a questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video, ciao ragazzi!